50 hub vaccinali da riattivare su tutto il territorio regionale, ai quali si aggiungeranno circa 300 farmacie, gli hub aziendali e l'azione di pediatri e medici di base. Così la Puglia scalda i motori per far ripartire, più veloce di prima, la macchina vaccinale. Destinazione, terza dose, ad una platea sempre più ampia di cittadini. A presentare la nuova fase della campagna, nel corso di una conferenza stampa, il presidente della regione, Michele Emiliano, e il direttore del Dipartimento della Salute, Vito Montanaro, che ha illustrato le prossime date segnate in calendario. Da lunedì 22 potranno essere somministrate le terze dosi agli over 40, così come stabilito dal commissario Figliuolo. Dunque potranno essere somministrate sia a coloro che ne hanno fatto prenotazione, sia a coloro che decidono di effettuare accessi liberi. Da lunedì 29, invece, partiranno le prenotazioni senza scadenza per tutti coloro che vorranno dichiarare la disponibilità ad effettuare la terza dose di vaccino, che siano over 40 o che siano under 40. Evidentemente però gli under 40 potranno ottenere la somministrazione della terza dose nel caso in cui, nel frattempo, la struttura commissariale nazionale abbia autorizzato il sistema nazionale all'effettuazione della terza somministrazione. I dati confortanti relativi ai ricoveri non devono far abbassare la guardia. Una nuova ondata della pandemia potrebbe presto travolgere anche la Puglia, come sta accadendo in altre zone d'Italia e del mondo. E l'unica ciambella di salvataggio resta la vaccinazione. Pensiamo che tra 25 e 30 giorni la quarta ondata raggiunga anche la Puglia. Quindi prima vi vaccinate meglio è, perché poi dopo può essere troppo tardi per farlo, nel senso che sono tantissimi i cittadini che non si erano vaccinati, che una volta preso il Covid hanno lanciato messaggi dalle terapie intensive dagli ospedali pentendosi amaramente della loro scelta. E quindi io spero che ci sia un movimento generale della società pugliese che spinga la terza dose. Ma lo voglio anche dire, ci sono ancora moltissimi che non hanno fatto neanche una dose. Quindi le prenotazioni sono aperte e saranno aperte per tutti, per quelli che devono fare la prima dose e per quelli che devono fare la terza. Vaccinarsi è l'unica arma di cui disponiamo. L'alternativa sarebbe bloccare di nuovo tutta la società italiana con il lockdown.